Nico Pertosa, presidente del Caselle, al via la nuova stagione, una stagione da eccellenza. Sì, una stagione da eccellenza e stiamo cercando di iniziarla nel miglior modo possibile. Siamo partiti un po' tardi rispetto agli altri, ma sicuramente ci stiamo preparando per fare del nostro meglio, per onorare questa eccellenza che abbiamo preso dopo 105 anni di storia. Senti Nico, subito un intoppo se vogliamo, nel giorno di Coppa Italia siete stati sorteggiati con l'Aigreville e lo Charven Sod, quindi due partite con squadre valdostane. Sì, si vede che la valdosta deve stare nella nostra storia, quest'anno abbiamo avuto qualche problemino con lo Charven Sod, si vede che la federazione non fa attenzione a queste cose e quindi hanno pensato bene di metterci a 120 km di distanza, mentre tutte le altre gironi al massimo faranno 20 km. Per quanto riguarda invece il campionato che andrà a cominciare il primo settembre, il primo obiettivo è la salvezza? Assolutamente sì, noi abbiamo fatto una squadra che sicuramente ci darà delle soddisfazioni, che tecnicamente sicuramente è all'altezza dell'eccellenza, però sappiamo perfettamente che per noi è il primo anno, la prima volta in assoluto, anche se abbiamo dei giocatori che sono abituati all'eccellenza, chiaro la società non lo è e quindi dobbiamo fare attenzione a quello che stiamo facendo e ci prepariamo al meglio. Tutto da imparare ma voi siete i tipi che imparate in fretta? Sì, direi che le attitudini ad imparare le abbiamo, facciamo tesoro di tutto quello che vediamo, facciamo tesoro di tutti gli insegnamenti che ci arrivano da ogni parte, cerchiamo di cogliere sempre le cose migliori, poi è chiaro noi sbagliamo, siamo degli umani e quindi non possiamo fare tutto perfetto, però devo dire che come società ci stiamo muovendo decisamente bene.